Eventi, ed intanto parte per il suo esercizio alla trave Angela Andreoli della Brixia, ginnasta giovanissima ed è veramente un portento questa ginnasta, molto giovane, ecco qua già una serie mista collegata Il doppio giro Cosacco con un leggero sbilanciamento, parte a contatto con l'attrezzo Un po' di parte artistica che come abbiamo detto deve essere, deve arricchire comunque l'esercizio, serie acrobatica, flick, smezzato, flick, salto tese Serie ginnica e jambe cambio con un pennello, con un giro completo, con un grosso sbilanciamento Veramente un portento, vero Emiliana questa ginnasta? Sì, è veramente, veramente forte, poi la vedremo penso anche al Corpo Libero dove veramente sa esprimere molto bene la sua ginnastica, diciamo così È giovanissima e si prepara per l'uscita, con un'ondata con un doppio cartio